In altre occasioni vi ho già detto più volte che nel momento nel quale ho seguito il consiglio di coloro che mi esortavano così ad aprire un canale YouTube e una pagina Facebook sulle quali pubblicare dei video, ebbene io mai avrei pensato di arrivare ad un simile seguito. Tuttavia, quello che è accaduto nei giorni scorsi veramente trascende da ogni possibile immaginazione. Posso senza dubbio dire che si tratta della più grande soddisfazione che abbia mai avuto in vita mia. Sapete che io, qualche giorno fa, insomma quasi per gioco, vi avevo invitato ad indovinare quale sarebbe stato il mio candidato per le elezioni al nuovo Presidente della Repubblica. Ebbene alcuni di voi hanno indovinato. Personalmente, da italiano, il mio sogno sarebbe quello di avere come Presidente della Repubblica il Professor Giorgio Agamben. Ho anche così giustificato la mia scelta e quindi non la sto qui a ripetere. Mi limito a dire che la mia ammirazione, la mia stima nei confronti del Professor Giorgio Agamben è veramente sconfinata, insomma, non aggiungo altro. Ebbene, successivamente alla pubblicazione del mio video, aprendo la posta elettronica di Finanza in chiaro, sono rimasto letteralmente senza parole. Stentavo a crederci. Ho ricevuto una mail dal Dottor Giampaolo Agamben, fratello del Professor Giorgio Agamben, il quale non solo mi ringraziava per le parole da me rivolte nei confronti del fratello, ma mi forniva anche notizie, diciamo, delle quali penso che pochi italiani siano al corrente e che la famiglia Agamben, per motivi di riservatezza, non ha mai divulgato. La mail poi si concludeva con un augurio nei miei confronti, per il quale veramente non ci si può non commuovere. Ebbene, ho chiesto al Dottor Agamben il permesso di poter fare questo video, cioè di fare un video nel quale avrei letto la mail che avevo ricevuto e io avrei certamente compreso un suo eventuale diniego, insomma. Invece, con somma sorpresa e gioia, il Dottor Giampiero Agamben mi ha autorizzato a divulgare la sua missiva. Quindi ora ve la leggo, sperando veramente di riuscire a trattenere l'emozione. Gentile Dottor Marcotti, sono Giampaolo Agamben, il fratello del professor Giorgio Agamben. Desidero ringraziarla per le parole di stima e di apprezzamento nei confronti di mio fratello e per averlo scelto come suo candidato preferito per la presidenza della Repubblica Italiana. Desidero da parte mia aggiungere un piccolo dettaglio per meglio comprendere i motivi che spingono la nostra famiglia ad impegnarsi nella difesa della nostra Costituzione e dei principi di libertà sanciti dalla Costituzione stessa. Mio fratello, in tutti i suoi numerosi interventi, anche in Senato, non ne ha mai accennato, per ragioni di riservatezza, propri della sua natura di intellettuale purissimo. Si tratta di sapere che la nostra zia paterna, onorevole Maria Agamben Federici, ha fatto parte dell'Assemblea Costituente ed è stata nominata a far parte della Commissione dei 75, 70 uomini e 5 donne, preseduta da Meuccio Ruini, Commissione che, suddivisa in sottocommissioni a seconda delle materie trattate, ha materialmente scritto gli articoli della Costituzione che venivano poi sottoposti all'Assemblea Costituente per gli eventuali emendamenti e per l'approvazione finale. Lei capirà che, per circa tre anni, noi siamo vissuti a pane e Costituzione e che questo ha lasciato una traccia nella nostra vita che non si può cancellare con un DPCM che non ha nessun valore di legge. Mio fratello, che da anni era impegnato, tra l'altro, nello studio della natura degli stati di eccezione, è stato il primo a denunciare la deriva antidemocratica a cui stava andando incontro la nostra fragile democrazia, ricevendo naturalmente una serie infinita di insulti e diffamazioni, degne della nostra splendida classe giornalistica e dei sedicenti intellettuali e filosofi. Le invio i miei più cordiali saluti con l'augurio che le sue battaglie abbiano la fortuna che meritano tutti coloro che resistono alla prepotenza degli ignoranti e vili cancellatori della libertà. Giampaolo Agambele. Sono riuscito ad arrivare alla fine. Capito, cari ascoltatori? Cioè, quella famiglia ha contribuito a vergare la nostra Costituzione. Chi, meglio di loro, ora potrebbe difenderne i principi? E poi ancora, cari ascoltatori, leggere queste parole le invio i miei più cordiali saluti con l'augurio che le sue battaglie abbiano la fortuna che meritano tutti coloro che resistono alla prepotenza degli ignoranti e vili cancellatori della libertà. Mirabile. Cioè, in questi casi, il termine che mi sembra più consono è mirabile. Fatemi dire un'ultima cosa. Nella mail di risposta alla mia richiesta appunto di poter leggere la sua missiva, il dottor Agamben mi scrive Le confermo comunque che non ho alcuna ragione conoscendo tra l'altro il suo garbo e la sua correttezza per non consentirle di citare quanto le avevo comunicato nella mia prima mail. Ed effettivamente non è facile per me trattenere anche delle lacrime di emozione. Grazie a tutti.